Il Paradiso, anticipazioni dal 10 all'11 aprile, Tancredi male, Marcello e Ludovica complici. L'appuntamento con il Paradiso delle Signore 7 è confermato per le giornate del 10 e 11 aprile, quando in prima visione su Rai 1 saranno trasmesse due nuove puntate inedite. Le anticipazioni del Paradiso del 10 e 11 aprile rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Tancredi, il quale si ritroverà a essere vittima di un improvviso malore. Spazio anche a un riavvicinamento sospetto tra Ludovica e Marcello, che avverrà nel momento in cui la Contessa si allontanerà da Milano per un viaggio. Nel dettaglio, le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 10 aprile 2023 rivelano che Ludovica deciderà di consegnare alcuni oggetti a Marcello e... Per un attimo, i due ritroveranno la sintonia di un tempo. Tra i due giovani, infatti, tornerà l'armonia dei vecchi tempi e ritroveranno la complicità che fino a qualche tempo fa li univa e faceva parte della loro storia d'amore. Insomma, un momento del tutto inaspettato per i due ragazzi che potranno rivivere questo momento di pura cordialità anche grazie all'assenza in città di Adelaide. Occhi puntati anche su Matilde, gli spoiler di questa nuova puntata della soap opera pomeridiana di Rai 1. Rivelano che la donna noterà l'atteggiamento ambiguo e strano di suo marito. Tancredi apparirà sempre più turbato e provato ma non si riesce a capire il vero motivo di questa situazione. A quel punto, Tancredi deciderà di confidarsi solo con suo fratello Marco, al quale svelerà di stare male. Maria, invece, non avrà alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti di Vito, la donna si sente tradita dall'uomo con cui sperava di poter costruire il suo futuro e per questo motivo non sarà disposta a perdonarlo facilmente e a lasciarsi alle spalle ciò che ha scoperto sul suo conto. E poi ancora, le anticipazioni del paradiso delle signore di martedì 11 aprile 2023. Rivelano che Tancredi si ritroverà a fare i conti con un improvviso malore, che lo costringerà a una corsa in ospedale per sottoporsi a tutti gli accertamenti medici. L'uomo sarà affiancato da suo fratello Marco, al quale chiederà di non mettere al corrente della situazione sua moglie Matilde, così da non farla preoccupare. Intanto Ludovica si ritroverà in grande difficoltà al circolo, complice l'assenza della contessa. La giovane brancia dovrà affrontare una situazione lavorativa piuttosto complicata e per tale motivo chiederà aiuto a Marcello, che si schiererà subito dalla sua parte per cercare di aiutarla a uscire da questa intricata vicenda. Riusciranno a trovare la soluzione ideale anche senza la contessa? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa settimana. Riusciranno a trovare la soluzione ideale anche senza la contessa. Riuscirò a trovare la soluzione ideale anche senza la contessa.